So che molti due probabilmente mi odieranno per il fatto che non sto praticamente più pubblicando nulla su Widdle da circa un mese E oggi sono qui neanche per fare uno dei soliti video ma per parlare nuovamente con voi Penso che se su voi che io odiamo questa tipologia di video, una sorta come posso dire di video sfogo no? Però penso che in questo caso sia abbastanza importante perché in questo mese di pausa sono cambiate tante cose e sono qui apposta un poco per raccontarvi Alla fine si YouTube è anche uno spazio di contenuti, intrattenimento Penso che sia anche abbastanza importante parlare un po' della persona, di quello che succede soprattutto se vieni influenzato direttamente col canale e con tutto il tuo percorso artistico che hai fatto nel corso del tempo Prima di parlare però ragazzi, ciao a tutti ovviamente Proprio in questi giorni il canale YouTube compie ben 3 anni, siamo nati nel 2015, mi ricordo molto molto bene e annunciamo il primo trailer di Xenomers, tantissimi ricordi Però ragazzi prima di iniziare questo video volevo farvi un piccolo annuncio perché so che magari alcuni di voi non vedranno tutto questo video e ci tengo particolarmente a vedervi Quindi vi avviso che sabato, domenica, lunedì e martedì, esattamente 28, 29, 30 e primo maggio sarò al Comic Con di Napoli Non sarò in nessuno stand, non ci saranno raduni, ci teniamo a dirvelo in anteprima perché vorrei assolutamente incontrare molti di voi per parlare un poco dei progetti futuri di Xenomers e chi più ne ha più ne metta Esattamente più di un mese fa ho creato quel video Arrivederci Widdle Che sono molto felice perché molti di voi mi hanno compreso sulla mia ideologia, sul mio percorso artistico per quanto riguarda Beehive Il secondo canale che è proprio aperto quando ho pubblicato quel video Ultimamente per chi magari mi sta già seguendo là, vi lascio il link in descrizione anche sulle schede di info per iscrivervi Nota perfettamente che mi sto totalmente dedicando a quel canale Mentre su Widdle non stanno uscendo praticamente video Ovviamente ragazzi c'è una motivazione ben precisa e anche una scusa da parte mia Perché vi avevo promesso che cercavo di fare un 50 e 50 O meglio di riuscire comunque a fornirvi un contenuto su Widdle una volta a settimana Questa era la mia idea, fino a quando non avevo pubblicato ancora il canale secondario O meglio ora canale principale, devo essere sincero Mi sono reso conto che con il passare del tempo, con il passare di questi giorni, queste settimane Mi sembrava quasi obbligatorio fare magari un video anche su Widdle Ma io sinceramente non avevo neanche una minima idea per un video E non volevo neanche arrivare in quella situazione in cui magari pubblicavo obbligatoriamente quel video a settimana su Widdle Perché così facevo contenti molti di voi Ma il motivo non è per il fatto che non voglio più lavorare su Widdle o qualsiasi altra cosa E preferisco in questo caso Be Aive Cioè comunque considerate anche un attimo due fattori importanti Penso che nessun youtuber voglia sacrificare Comunque un canale mediamente abbastanza grande 80.000 iscritti per uno da 5.000 che ormai non sono niente Però in questo momento voglio dare il 100% di me stesso Per quello comunque che mi piace sul secondo canale Quindi per questo motivo mi sto dedicando al 100% Mi sto dedicando e mi sto anche veramente innamorando di quello che sto facendo Ormai fare video non diventa quasi più un peso Ultimamente con Widdle lo era Ma forse questo era anche per il fatto di carenza di contenuti Pokémon ha un periodo di crescita e di comunque interessanti novità Soprattutto sul periodo d'estate e magari fino a fine dicembre Mentre da febbraio fino a bene o male maggio Speriamo appunto che tra poco annunci i nuovi titoli Non c'è così tanto da parlare Magari soltanto se tipo annunciano qualche leak particolare di nuovi giochi Oppure qualche spin off E quindi mi sono trovato proprio nella situazione In cui ho creato questo secondo canale Ma allo stesso tempo a livello di Pokémon non c'era niente di cui discutere con voi Ci ho provato comunque in questi mesi a pubblicarvi due video Ma questi due video sono andati veramente male Perché probabilmente uno non ne avevo voglia Due l'ho fatto comunque per cercare di non far morire il canale E tre perché comunque sono top Che possono piacere ad una parte del pubblico Ma all'altra fetta magari no Quindi teoricamente ecco perché ho pensato di dedicarmi per il momento di più a BiHive rispetto a Widdle Che comunque ha 5.000 iscritti che sono poco rispetto agli 80.000 iscritti di Widdle Quindi cercate anche un po' di capire la situazione che si è creata Però sono qui appunto per dirvi che Widdle Per il momento, per il momento ragazzi, non morirà Perché vorrei principalmente concentrarmi su degli argomenti, dei contenuti Quando effettivamente ci sono Senza cercare ragazzi ogni santo giorno di pensare a quell'idea che magari può funzionare Che può piacere alla gente A me fare video di questo genere onestamente non piace Sarà anche abbastanza banale dirlo Ma deve esserci qualcosa che ti emoziona mentre fai video Non so se è chiaro Qualcosa che comunque ti dà la forza di farli Che ti fa piacere comunque registrarli, montarli Scrivere un copione Cioè il 90% dei video che faccio sono sempre col copione E quindi questa cosa è molto più pesante Per esempio, che ne so, registrare un gameplay, fare una live Nulla toglierà gli altri, sempre lavoro Però ovviamente ci spreco almeno due giorni per fare un unico video E questo è l'esempio pratico degli ultimi due video che ho fatto su Widow Che comunque sono andati male Però allo stesso tempo capisco Perché comunque voi cercate principalmente i contenuti di Xenoverse Ecco, per Xenoverse sarò sempre comunque abbastanza riassuntivo Non ha niente a che fare con la situazione di YouTube Nel senso che comunque noi stiamo continuando a lavorare Cerchiamo di portarvi la parte 2 il prima possibile in uscita C'è tantissimo, veramente tantissimo lavoro da fare Perché creare un gioco purtroppo porta tanto tempo E comunque essendo pochi nel team ultimamente È davvero difficile riuscire a coordinare tutti i lavori possibili Ma si cerca sempre di fare il possibile Quindi io vi parlo esclusivamente del fattore YouTube Che si basa sia sui contenuti che ovviamente sulla persona stessa Avevo l'idea, appena uscirà qualche bel annuncio interessante di Pokémon Di riportare qualche bel video Che si basa principalmente sul parlare Ultimamente mi sto veramente divertendo a parlare faccia a faccia Ti dà anche un po' di autostima, un po' più di carica nel fare video E quindi per il momento, per il momento Non ci saranno video su Weedle Fino a quando non ci saranno annunci Però, però, però attenzione Solitamente è sempre YouTuber a decidere bene o male le rubriche che deve fare Però questa volta vorrei fare una cosa un tantino diversa Vorrei che scrivete nei commenti che tipo di rubriche, di idee, di scelte Secondo voi potrebbero essere buone per Weedle Per far crescere il canale e non bloccarlo Lo so è anche un po' dura Considerando il fatto che l'anno scorso andava veramente, ma veramente bene E mo' è decollato del tutto Però, vi ripeto, non sono un tipo che si arrende E sono un tipo che comunque cerca le cose piano, piano Quando mi sento di fare una cosa, cerco di farla Quando non me la sento, magari la faccio, sbaglio E quindi non lo faccio più Volevo un attimo spiegarvi la situazione Non mi andava di, magari, di non pubblicare nessun video E poi improvvisamente tornare dall'oltretomba Perché mi sembra anche una questione di poco rispetto nei vostri confronti Per quanto riguarda il secondo canale Io continuerò probabilmente a fare tre video a settimana Ma perché, vi ripeto, ci sono tanti contenuti Porto comunque argomenti generali sui videogiochi Quindi ci sono tante cose interessanti da fare C'è anche Smash, che personalmente penso che sia la tematica principale per il momento su BeHive Quindi vi invito con tutto il cuore di iscrivervi Perché là ci saranno tantissime novità Sia, vabbè, sul contenuto generale dei videogiochi Ma là potete comunque trovarlo in tantissimi altri canali veramente forti Però ci sono cose mie, come vi ho spiegato appunto la futura società videodudica Che sono cose che ovviamente negli altri canali non troverete Quindi ragazzi, veramente, mi auguro che con questo video voi possiate anche capire Il secondo canale, quello che c'è dietro E quello che comunque ci sto veramente buttando il sangue praticamente Quindi, ovviamente, i link tutti in descrizione Schede di info e chi si è visto, si è visto Ragazzi, io penso veramente di aver detto tutto Cercherò di leggere tutti i commenti Perché mi trovo in una situazione di pace Ma allo stesso tempo di inferno Sono nel Purgatorio praticamente Perché vorrei tanto ma tanto riportare qualche contenuto bello di Pokémon Qualche tematica bellissima che abbiamo visto anche l'anno scorso Però per il momento non ho veramente idea Quindi vorrei alzare le mani Alzare tutte le mani Farmi una sfera Genkidama praticamente E cercare di aiutarmi in questa situazione Perché penso che anche il vostro parere sia importantissimo per uno YouTuber Vi aspetto comunque sul secondo canale Pure se non tratterò Pokémon Ma porterò della roba esclusiva di Xenoverse Per quanto riguarda il lato ovviamente della costruzione del gioco Quindi vi lascio tutto in descrizione Vi aspetto in tanti Vi aspetto anche al Comic-Con Quindi ragazzi, non so qui ancora quando ci vedremo Spero che ci rivedremo molto presto Potrebbe anche essere domani Magari mi sveglio e voglio di fare un video Mi è venuta un'idea buona Ma potrebbe essere anche tra un anno Non lo so Fatto sta che, vi ripeto, Xenomers va avanti Quindi appena avremo qualche cosa di pronto A livello proprio di trailer e di organizzazione che stiamo creando Ve lo mostro il prima possibile Sperando appunto che il gioco esca durante comunque questo 2018 Ma cercate di prendere sempre le mie parole con le pinze Perché è veramente molto molto importante Spero di vedervi il prima possibile Ma soprattutto vi aspetto sul mio canale BI Da Capitano Stark è tutto E noi ci vediamo in un prossimo video Grazie a tutti